Campania da oggi in giallo, stretta per la Movida, via libera, bar e ristoranti fino alle 18, ma in molti non hanno riaperto. Dopo l'allarme di De Luca, stamane sono arrivate all'aeroporto militare di Capodichino le nuove scorte di vaccino, sempre basso l'indice di positività. Saldi al via da oggi, ma la crisi continua, partita la stagione degli sconti che continuerà fino all'11 marzo, ai microfoni di 8 Channel, gli esercenti denunciano difficile partire di lunedì con gli sconti, così il settore è stato penalizzato. Napoli stesa e ferimenti, torna l'allarme Camorra, spari nella notte del quartiere Stella, ritrovati 40 bossoli e la finanza sequestra una pistola con munizioni nascosta nel bavaio di un bimbo. Cinque denunciati per la lite finita con un accoltellamento sul lungomare. Primi rientri in classe, tra paure, polemiche e tanta emozione per un nuovo primo giorno di scuola in Campania, da oggi hanno ripreso in presenza a scuola dell'infanzia prima e seconda elementare. Resta la preoccupazione per i contagi, nuove proteste a Salerno. Vaccino che è nel sanio, bimbi positivi in Irpinia, in arrivo altre 2.500 dosi a Benevento, il direttore dell'ospedale Ferrante avverte, non dobbiamo abbassare la guardia a Montemarano, nella Vellinese, cinque bambini in isolamento dopo aver contratto il virus. Mal tempo, frane e voragini, emergenza in Campania, ai Camaldoli, è sprofondata la strada che porta a Marano, gravi le ripercussioni sul traffico, esasperati residenti e commercianti. In Irpinia, frana sulla strada di collegamento con la Puglia, mentre a Salerno le forti raffiche di vento hanno abbattuto tre alberi. Eccoci, buon pomeriggio a Bari trovati con l'informazione regionale del canale 696. Allora, da oggi la Campania torna in fascia gialla, ma sono in arrivo nuove restrizioni da parte del governo, soprattutto per limitare la cosiddetta movida. Un'altalena di aperture e chiusure che non piace però ai pubblici esercizi. Vediamo. Dopo il breve assaggio dei giorni scorsi, la Campania torna in zona gialla. Ok allo spostamento tra comuni, ma non tra le regioni, ma la libertà potrebbe durare poco. Il governo è infatti pronto a varare un nuovo inasprimento dei divieti con l'obiettivo di spegnere la movida. Bar chiusi alle 18, vietato anche l'asporto e ipotesi zona rossa con 250 positivi ogni 100.000 abitanti. Una stretta che non piace ai rappresentanti di categoria del commercio, come spiega Massimo Di Porzio di Fipe Napoli. Diciamo che noi ripartiamo in un'atmosfera di grande incertezza. Iniziamo oggi, dobbiamo lavorare 5 giorni, poi sicuramente sabato e domenica dovremo richiudere. Non sappiamo quello che succederà al 18. Io credo che noi siamo stati oggetto di una campagna di restrizioni, soprattutto nel periodo di Natale, che non era giustificata, secondo me, dai numeri della pandemia. Dico già adesso che molti non riaprono oggi, perché chiaramente lavorare solo a pranzo durante la settimana per alcuni locali non ha ragione di esistere, cioè nel senso che si accumulerebbero altre perdite a quelle che sono le perdite che già stiamo avendo da un anno. Chiediamo chiarezza, quindi dei provvedimenti che diano un orizzonte temporale tale da dare la possibilità alle imprese di organizzarsi. Non è che ci aspettiamo una ripresa delle attività dall'oggi al domani, però è importante avere una continuità di operatività per poter programmare il futuro. E partono oggi anche i saldi invernali che continueranno fino all'11 marzo. Ai microfoni di 8 Channel, gli esercenti dicono di sperare nella ripresa, ma l'inizio di lunedì non è proprio l'ottimale. Vediamo. Sono partiti ufficialmente da poche ore i saldi invernali in Campania, che dureranno fino all'11 marzo. I commercianti sperano in una ripresa dopo un periodo difficile causato dalle restrizioni da Covid-19. In zona gialla vediamo come stanno andando le cose. I saldi potrebbero essere un'occasione, perché ormai la situazione dell'epidemia ci ha un po' portati fuori pista. Noi ci speriamo e ci auguriamo sempre il meglio. Non c'è questa grande attesa dei saldi, diciamoci la verità, non c'è la sorpresa più ormai. Ci hanno fatto bruciare questo weekend, che era una cosa importante invece, perché iniziarli di lunedì non ha proprio senso. Sto in provincia, a Mercato San Severino, e adesso che sono venuta mi sembrava che era un funerale per il corso. Sono rimasta un po' scioccata dalla situazione, però i negozi bisogna visitarli un po', che spendere pure qualcosa, perché se no qua ho visto dei zombie per la strada. Comunque oggi è un giorno lavorativo, non c'è la possibilità per tutti di andare in giro, però speriamo che anche con un inizio un po' in sordina, poi nel fine settimana potremmo vedere qualche miglioramento. Saremo uscite anche senza i saldi, però visto che ci stanno diamo un'occhiata. Speriamo che la situazione migliori. E questo è il nostro augurio che ci facciamo e che facciamo a tutti, perché veramente hanno bisogno queste persone di far muovere il commercio. Il fronte sanitario del Covid è arrivato questa mattina. Il nuovo carico di vaccini Pfizer-BioNTech all'aeroporto militare di Capodichino, dopo l'SOS lanciato da De Luca, riprende dunque la campagna di immunizzazione. Vediamo. Arrivate alle 8.30 circa all'aeroporto militare di Capodichino a Napoli, le nuove scorte di vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. BioNTech e il furgone del Corriere è stato scortato dalle volanti della polizia. La campagna vaccinale in Campania, dunque, dovrebbe riprendere nelle prossime ore, dopo il breve stop inferto dall'esaurimento delle fiale. Ieri il governatore De Luca aveva lanciato l'allarme, chiedendo al governo di inviare al più presto altri vaccini e personale sanitario. Il commissario Domenico Arcuri aveva assicurato nel pomeriggio l'invio del nuovo carico entro oggi. Una spedizione di 34.000 dosi di vaccino che saranno consegnate in tre fasi presso i 27 hub della Campania. La nostra regione ha fatto registrare un primato nazionale per la vaccinazione anti-Covid. Oltre 60.000 tra medici e operatori sanitari già immunizzati. Si riprende anche alla mostra d'oltremare. Dopo le code e le polemiche dei giorni scorsi, l'ASL ha creato un sistema di prenotazione che consentirà di impedire gli assembramenti. Da segnalare anche 41 allontanamenti di intrusi che non rientravano nelle categorie previste in questa fase. Tra loro anche un noto avvocato amministrativista di Napoli, cacciato direttamente dal manager Verdoliva. Intanto resta stabile la curva dei contagi registrati, 1.253 nuovi casi su 15.411 tamponi. Resta chiuso il Covid Center di Ponticelli dopo il crollo nel parcheggio. La procura accelera. Dopo aver sentito i dirigenti delle ASL cominciano gli approfondimenti sulle ditte intervenute per i lavori. Due le ipotesi più accreditate, le piogge copiose o un'esplosione della rete idrica nel sottosuolo. Una scossa di magnitudo 1.8 della scala Richter con profondità a 2.170 metri d'epicentro tra l'area Solfatara ed Agnano è stata registrata dai sismografi dell'osservatorio Vesuviano 54 minuti dopo la mezzanotte. L'evento è stato preceduto da un boato avvertito dai residenti della zona della Solfatara e dei quartieri costieri tra Via Napoli e Bagnoli. non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tornano le stese a Napoli ed è ancora allarme e criminalità. Nella notte spari a Rione Sanità ritrovati 40 bossoli nei pressi della casa di un pericoloso pregiudicato di 24 anni. La camorra torna a sparare a Napoli stesa nella notte a Rione Sanità. 40 i bossoli ritrovati in via Gradini San Nicandro ai confini del Rione nel quartiere Stella in pieno centro a Napoli. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Si sarebbe trattato di una stesa e l'intimidazione è diretta probabilmente ad un pregiudicato di 24 anni che abita in zona. A mezzanotte a far scattare l'allarme sono stati i residenti che hanno avvisato i militari dei colpi a raffica esplosi in strada. A sparare sono stati dei ragazzi arrivati a bordo di scooter nella zona. Hanno percorso la strada velocemente armi in pugno e mirando in alto. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Intanto da ore vanno avanti in città blitz e controlli nel quartiere San Ferdinando. I finanzieri hanno rinvenuto una pistola semi-automatica calibro 7,65 avvolta in un bavaglino. Si tratta di una pistola con matricola brasa e le relative munizioni e sono in corsi esami balistici per capire se quell'arma sia stata utilizzata in raid stese o fatti di sangue. Intanto sono cinque le persone denunciate per la rissa scoppiata sul lungomare di Napoli ieri. Una rissa degenerata in accoltellamento. Si tratta di tre italiani e due equadoregni. Secondo quanto si è appreso tra i cinque c'erano vecchi dissapori. Ad avere la peggio è stato un equadoregno di 58 anni, padre dell'altro straniero, che è stato colpito più volte all'addome. L'uomo è stato ricoverato al vecchio Pellegrini e fortunatamente non rischia la vita. Questa mattina a Solofra, in provincia di Avellino, ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta sotto una Mercedes classe A e dato fuoco ad una Fiat 500, entrambe parcheggiate in via Melito, nei pressi dell'abitazione del proprietario, un imprenditore del posto. La deflagrazione dell'ordigno ha causato lievi danni al veicolo, mentre le fiamme, domate dalla stessa vittima, hanno interessato il banno motore degli utilitari. Affortunatamente non si registrano feriti sul posto i carabinieri di Solofra che hanno avviato le indagini. Tanta emozione per un nuovo primo giorno di scuola. Oggi in tutta la campagna resta la preoccupazione per i contagi, ma docenti e genitori e piccoli alunni sono contenti di tornare in classe. Vediamo. Riparte la scuola in campagna tra paure e polemiche. Stamattina il ritorno tra i banchi per i bimbi dell'infanzia delle prime e seconde elementari. Eppure la sensazione dell'assessore Lucia Fortini è che il 70-80% delle famiglie non voglia tornare in presenza. A ottobre molti volevano i figli in classe. Ora no, ormai si è trovato un equilibrio nella DAD e la curva dei contagi spaventa. Ma intanto oggi si respirava comunque l'emozione di un nuovo primo giorno. ingressi diversificati, misurazione della temperatura e tanta, tanta voglia di ricominciare per docenti, genitori, nonni e naturalmente per i piccoli alunni. Ci voleva, ne avevamo tanta voglia, i bambini hanno tanta voglia di ricominciare e siamo veramente contenti. Siamo contenti perché i bambini a casa non ce la fanno più. Hanno bisogno di interagire, socializzare. Ebbene sì, nonostante tutto siamo comunque in parte contenti per loro. Sicuramente sono emozionati e vogliono ritornare a scuola. Speriamo bene. È stato un po' duro perché hanno bisogno comunque di socializzare. Davanti a uno schermo si può fare qualcosa, ma almeno per i bimbi di prima, seconda, terza elementare è difficile fare la DAD. Finalmente si ritorna a scuola così i bambini possono studiare. Il primo giorno siamo anche stati un po' più flessibili con i genitori perché vogliamo un attimo accogliere senza nessun tipo di problema perché devono riabituarsi. Un po' a tutto. Qui lo vado dicendo da maggio-giugno che per gestire una situazione in piena pandemia di presenza a scuola occorre sicuramente un tracciamento rapido. E continua la protesta anche dei genitori in NODAD questa mattina a Salerno. Lezioni all'aperto in piazza San Francesco. Nel giorno in cui riaprono le aule per i più piccoli, a Salerno torna la protesta di chi chiede l'immediato ritorno in classe per tutti. Dopo le iniziative alla Matteo Mari, al Tasso e alla Rita Levi Montalcini, l'inizio settimana è stato contraddistinto dal sit-in in piazza San Francesco del coordinamento Scuole Aperte Salerno. Docenti e studenti hanno organizzato una lezione in strada per testimoniare plasticamente la necessità di rientrare in classe. Disconnessione simbolica per protesta per dire basta alla didattica a distanza che non può protarsi oltremodo. È vero che la DAD è stata un paliativo, ma non può essere sostitutiva. Ci sono dei ragazzi ad esempio diversamente abili che non riescono proprio a seguire. In più non ci sono progetti funzionali, non ci sono progetti inclusivi, nonostante il DPCM e le linee guida e miurro lo sottolineano già dal 6 ottobre. Quindi voglio dire adeguamento a 360 gradi, scuola, sicurezza, trasporti. Ognuno faccia il suo compito e noi vogliamo ritornare alla nostra vita, a fare i genitori, a fare i lavoratori, a fare i disoccupati, perché non è il nostro compito essere in piazza a manifestare. Noi vogliamo soluzioni e servizi. I trasporti che devono essere assolutamente incentivati, perché abbiamo visto inizio anno i pullman pieni di gente, è una situazione assolutamente insostenibile, quindi possiamo gestire meglio anche la situazione delle uscite, i spazi che devono essere sfruttati meglio, perché effettivamente ci sono scuole che non lo hanno fatto a dovere. Salgono i positivi di Covid nel Sannio, in arrivo però altri 2.500 vaccini tra oggi e domani. Il direttore del Sampio raccomanda non dobbiamo abbassare la guardia. 30 nuovi positivi su 234 tamponi effettuati dall'Asla e quasi 50 degenti nel solo ospedale Sampio di Benevento. Sono i numeri dell'emergenza Covid nel Sannio, dove la comunità piange il decesso presso il nosocomio cittadino di una donna di 50 anni. Morte su cui i familiari vogliono vedere chiaro, per questo hanno presentato querela ai carabinieri chiedendo che la procura disponga l'autopsia per stabilire se tutto sia stato fatto secondo i protocolli previsti. Una situazione drammatica che coinvolge pazienti e gli stessi sanitari, come ha sottolineato il direttore generale del Sampio, Mario Ferrante. Ci sono stati morti anche più giovani di 50 anni, quindi il problema esiste e bisogna essere attenti. Io ogni giorno mi sento con colleghi anche che sono stati in prima linea ricoverati, che sono ricoverati, quindi è un fatto drammatico e che forse solamente con l'attenzione, con la prevenzione, forse usciremo fuori. La speranza del vaccino non deve farci abbassare la guardia, protego Ferrante, che annuncia i prossimi passi. Il fatto che ci siamo tutti impegnati, le aziende, a fare i vaccini ha portato che la regione Campania sia la prima in Italia a aver fatto tutti i vaccini, tanto che noi abbiamo i frigoriferi adesso vuoti e attendiamo la nuova fornitura. Per arrivare la fornitura oggi o domani, oggi pomeriggio o domani. Di nuovo abbiamo due stoccaggi di circa 2.500 vaccini. Covid in Irpinia stabile il numero dei contagi, ma preoccupa la situazione a Montemarano, dove sono risultati positivi 5 bambini. Il sindaco dice che la situazione è monitorata, ma dobbiamo stare molto attenti. Sentiamo. La curva dei contagi in Irpinia è stabile, ma preoccupa la situazione a Montemarano, dove nei giorni scorsi erano risultati positivi 5 bambini in età scolare. La notizia della positività è una notizia non bella, anche perché in un primo momento si diceva che i bambini erano più resistenti al virus e che non manifestavano la positività al virus. Invece purtroppo bisogna essere molto attenti. Il sindaco Bene Amino Palmieri ha assicurato che la situazione è costantemente monitorata. Abbiamo appena ricevuto il report dell'ASL relativamente ai tamponi di controllo effettuati presso il drive-in di Montella lo scorso sabato e risultano essersi negativizzati ben 8 persone. Quindi se il saldo a ieri era 18 positivi, adesso siamo a 10 positivi. Poi lancia un appello ai cittadini. Essere attenti di rispettare quelle norme che ormai conosciamo a memoria, ma che vanno continuate a perpetrare, vale a dire il distanziamento, la mascherina, il lavaggio frequente delle mani. Intanto altri casi, anche a Montella, 6 con la precisione, 5 a San Michele di Serino. Attualmente in terapia intensiva al Muscati sono 6 le persone ricoverate, di cui una molto grave. A Capaccio Pestum 19 persone sono risultate positive dopo aver partecipato ad una festa di Capodanno in un'abitazione privata. Intanto nel Salernitano sono 194 i nuovi casi. Vediamo. Il timore generale era che con le festività natalizie la curva dei contagi potesse tornare a salire, scenario che purtroppo si sta materializzando giorno dopo giorno anche nel Salernitano, dove il dato dei nuovi positivi sta facendo registrare nuovamente numeri preoccupanti. Nelle ultime ore infatti ci sono stati altri 194 contagiati sul territorio provinciale. E' emblematica la storia che arriva da Capaccio Pestum, dove si è verificato un focolaio con 19 positivi. Si tratta di persone che avrebbero partecipato a una festa la notte di San Silvestro, durante la quale si sarebbe propagato il virus sulla vicenda. Sono in corso indagini anche da parte degli agenti della polizia locale. La crescita dei contagi per fortuna non sta rallentando la campagna vaccinale che prosegue spedita a Ruggie negli ospedali della provincia. Ad oggi sono 11.500 le persone a cui è stato somministrato il siero. Entro questa settimana si conta di riuscire a vaccinare tutti i sanitari, per poi partire con l'inoculazione della seconda dose. Mediamente 550 vaccinazioni al giorno. Stiamo vaccinando, abbiamo quasi completato il personale della nostra azienda e stiamo vaccinando tutti gli operatori sanitari della città di Salerno. La campagna vaccinale continua non ha avuto nessuna forma di inceppo da questo. anzi, c'è stato di stimolo per accelerare ancora di più. Perciò siamo arrivati a questi numeri per vaccinare quanto prima è possibile tutti. Anche perché io sono testimone di questo. Io ho dosato gli anticorpi dopo 12 giorni dalla prima somministrazione e già sono presenti. Quindi significa che già l'immunità si sta manifestando. E con la zona gialla da oggi riparte anche la ristorazione, ma solo a metà. Il presidente di ConfCommercio del Sannio, Nicola Romano, chiede di far riaprire bar e ristoranti anche di sera. Con il passaggio della campagna in zona gialla, bar e ristoranti hanno potuto finalmente riaprire, seppur con le restrizioni previste anche in questa fase dell'emergenza Covid. Ma nel Sannio la ConfCommercio parla di un calo di oltre l'80% e di un'intera filiera ormai ferma. Quando parliamo di mancanza di fatturato, meno 80%, meno 82%, non stiamo parlando solo di mancato utile per l'impresa, ma stiamo parlando di una filiera che si è bloccata. Io stamattina ho avuto il colloquio con il titolare di una lavanderia che lavorava solo ed esclusivamente per ristoranti, alberghi e quant'altro. Ha chiuso l'attività, non riapre più a gennaio. Di cui l'appello? L'appello che rivolgiamo prima al Governo centrale, lo facciamo tramite la Confederazione nazionale, la Regione e al Comune, di dare una regolamentazione definitiva. In fondo questo settore, come altri settori, è stato quello che immediatamente ha adempiuto a tutti quanti quelli che erano gli obblighi per la salvaguardia dell'incolumità sanitaria. Oggi ci ritroviamo, si apre cinque giorni, si fa l'asporto, si sta a tavola, poi si chiude il weekend. Ovviamente tutte quante queste cose non portano nessun riscontro. Intanto resta la chiusura entro le 18 del servizio ai tavoli, ma l'esponente dell'associazione di categoria chiede di prolungare l'orario di apertura. Se uno rispetta tutte quante le norme in orario diurno, qual è il problema a far rispettare le stesse norme dalle 18 in poi? Il maltempo di questi ultimi giorni ha provocato ancora una voragine a Napoli, ai Camaldoli. È stata chiusa la strada che porta a Marano. Gravi le ripercussioni sul traffico sotto accusa le forti piogge degli ultimi giorni, ma anche la mancanza cronica di manutenzione. Vediamo. Il maltempo degli ultimi giorni è stato il colpo di grazia che ha causato probabilmente l'apertura di una grande voragine nella zona collinare dei Camaldoli a Napoli. Il cedimento ha portato alla chiusura della strada che collega il comune di Marano con la zona ospedaliera di Napoli. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici del comune al lavoro, esasperati i cittadini e gli esercenti della zona, mentre il mondo della politica accusa si intervenga con un'adeguata manutenzione. Questa è una strada importantissima che collega la zona ospedaliera, via il suo Neguantai. Quindi chiuso, siamo rimasti intrappolati. Mi auguro che l'amministrazione comunale, insieme al prefetto di Napoli, che è l'istituzione principale sul territorio della regione Campania, possano fare un tavolo istituzionale e veramente portare a termine questa situazione dei Camaldoli. I cittadini sono allarmati. Sono 25 anni che non abbiamo una regimentazione delle acque. Non abbiamo la realizzazione dei veri collettori fognari. Lavoreremo con uomini e mezzi, con i tecnici della regione Campania e del comune di Napoli affinché si possa recuperare una strada alternativa su questo territorio perché siamo sul piano evacuazione i cambi freghe. Enormi danni, se consideriamo che non c'è possibilità di accedere qui al negozio. È stata proprio la ciregina sulla torta che ci porta alla chiusura. Il mio rammarico è che viene un po' da lontano. C'era la banca e ha chiuso, man mano è una zona che è diventata proprio avvilente, avvilente, avvilente. Intanto a Salerno le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno abbattuto tre alberi a Torrione e in centro nei pressi del Teatro Verdi. L'opposizione attacca il comune. Prima o poi ci scappa il morto. Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, chiederemo chiarezza all'amministrazione. Le frane disagi anche nelle aree interne, in particolare nell'Arianese, con la chiusura di due importanti arterie di collegamento a causa sempre del maltempo. Vediamo. La pioggia non dà tre uguali aree interne. Sale il numero delle frane in Irpinia con conseguenze pesantissime, soprattutto per l'economia locale, già martoriata dall'emergenza Covid. Qui siamo al confine tra Campania e Puglia, nel territorio di Orsara, dove questo muro crollato che vedete alle mie spalle, all'uscita di una galleria, ha rischiato di provocare una vera e propria strage. Si tratta di un'arteria già nota per la madre di tutte le frane a Montaguoto, che fortunatamente dopo il grande intervento dell'esercito e della protezione civile, non sta recando eccessiva preoccupazione, pur restando un sorvegliato speciale. Ma ora su Orsara la preoccupazione è altissima. Un dissesto preannunciato e fortunatamente il crollo di questa nuova versante non ha coinvolto persone e mezzi, altrimenti stavamo a raccontare ben altra notizia di cronaca oggi. Chiediamo con forza il ripristino immediato. Qui siamo invece sulla strada provinciale 414, che Dariano porta a Monte Calvo Irpino, blocco totale, anche qui. Anche qui solo per un soffio non si è verificata una tragedia. Una grossa frana ha letteralmente avvolto la carreggiata in entrambe le corsie di marcia. Un giovane del luogo è salvo per miracolo, essendo riuscito a fermarsi pochi istanti prima. Difficoltà sempre a Dariano in località Accoli, Ottaggio, Saliberatore e Tesoro, e nei comuni Limitrofi, da Mirabella a Zungoli. Massima attenzione e prudenza viene raccomandata dalle forze dell'ordine agli automobilisti lungo le strade. A Benevento arriva una nuova unità operativa di medicina legale inaugurata oggi, spero. Ha auspicato il procuratore capo Policastro che l'azienda adesso si doti di un'equip di medici legali interna. Vediamo. Il Sanio è parte dell'Irpinia che rigate nella giurisdizione della procura di Benevento. Da oggi potranno contare di una nuova unità operativa di medicina legale presso l'azienda ospedaliera San Pio. A tagliare il nastro della struttura rimodernata sono stati il procuratore capo di Benevento Aldo Policastro, il presidente del tribunale San Nita, Mari Lisa Rinaldi, e il direttore generale del San Pio, Mario Nicola Vittorio Ferrante. Nuove sale autoptiche che potranno ora essere utilizzate dai medici legali con notevoli vantaggi, sia per i professionisti che per le indagini. Poniamo termine e devo ringraziare il direttore generale che si è impegnato in questo, in tempi rapidi, a una situazione di disagio in cui versava questo settore e per noi della procura un problema serio. Sono finite le difficoltà per portare le salme fuori dalla provincia, dalla nostra area, ed inizia un momento di utilizzo a corto, in sicurezza e rapido, che consente di velocizzare anche i tempi per la restituzione delle salme alle famiglie. Prossimo passo un'equipe di medici legali interni alla struttura ospedaliera. Io spero che l'azienda ospedaliera San Pio si doti anche di un servizio di medicina legale con medici legali propri da poter utilizzare per la nostra attività. Perché io ci tengo assolutamente alla necessità che l'attività di perizia, di consulenza, eccetera, venga espletata in termini rapidi, perché talora siamo di fronte a situazioni in cui il deposito delle consulenze avviene dopo tanto tempo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia. Aldo Fenizia, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.